Ti hanno dato la medaglia del coraggio? Sì. Ma ti hanno fatto male? No. Ah, meno male. Tutto bene, quindi? Sì. Adesso sentiamo anche il papà cosa dice. Come è andata? Tutto bene? Molto bene, super organizzati. Devo dire, veramente benissimo. Bene, quindi siete soddisfatti? Non c'è paura per l'ago? No, no, esatto. Passata la paura per l'ago, per lui, l'organizzazione è stata buonissima. Avevamo appuntamento alle dieci e mezza, alle dieci e mezza siamo entrati. Com'è andata? Bene. Ti hanno fatto male? No. Cosa ti hanno fatto? Il vaccino. Dove? Al naso. Quindi niente puntura? No. E poi cosa ti hanno dato? La medaglia. La medaglia del coraggio? Wow, che brava. E poi? E poi siamo andati dal pagliaccio. Siete andati dal pagliaccio? Avete giocato col pagliaccio? Sì. Sì, bello. Di tutto bene, signora? Sì, sì, benissimo, grazie. Si è organizzato benissimo. Bene, è stato facile? Assolutamente, facile, indolore per la bambina. Ci erano anche molto, sono stati accolti molto bene, guidati molto bene. Decisamente fatto tutto molto bene. Allora... Sei stato bravo? Sì. Sei stato bravo? Sì? Ti hanno dato la medaglia? Sì. Dov'è? Facci vedere. Che bella. Come è andata, signora? Bene, bene. Bene? Sì, 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 sono stati bravi. Cioè, è organizzato bene, è stato veloce, abbiamo fatto quello spray e lui è stato bravo per cui... Quindi nessuna puntura, una cosa indolore, rapida? Sì, è più veloce, meno pianti, non si sentiva nessuno che piangeva, per cui è un bene per i bambini. Signora, come è andata? È andata molto bene. Questo è l'ospedale degli Angeli, perché abbiamo trovato tutto organizzatissimo, persone di una gentilezza estrema, tutto organizzato, le salette con i numeri, i bambini stavano tutti a loro agio, nessuno piangeva quasi, ma quello che mi ha colpito è soprattutto il personale. Nessuno aveva fretta, erano tutti pronti, a disposizione e in un momento come questo, pensando a quello che passano, io a un certo punto mi sono anche commossa.